C'è una grande forza in questa terra disegnata dal fiume, c'è una grande forza nella nostra lunga storia. Macinare è come distillare il dono più prezioso della terra e noi lo facciamo bene, da più di cento anni, da cinque generazioni. Selezioniamo i migliori grani, valorizziamo i cereali italiani, recuperiamo le sementi antiche. Nelle nostre oasi pratichiamo un'agricoltura virtuosa, rispettosa e controllata. Amiamo la nostra terra e la qualità dei nostri prodotti, sempre orgogliosi del nostro lavoro. I grani che lavoriamo sono un piccolo miracolo, un miracolo di purezza e di bontà, che controlliamo nei nostri laboratori, per garantire una qualità costante nel tempo. Che maciniamo, impastiamo e inforniamo ogni giorno, per verificare che il risultato finale sia sempre eccellente. È il nostro percorso della qualità. Conserviamo i cereali in modo naturale, nei nostri silos refrigerati. E maciniamo più di duemila quintali di grano al giorno, con antica sapienza e moderni procedimenti industriali. Qui da noi, le radici e lo sguardo sul futuro vivono in armonia. I nostri prodotti di filiera 100% italiana sono sempre perfettamente tracciabili, garantiti dalle principali certificazioni internazionali. Noi la chiamiamo qualità costante ed è la garanzia che offriamo a tutti i nostri clienti. La nostra storia sa di buono, come il pane. Lo sanno bene centinaia di forni, di pasticcerie, di pastifici, di pizzerie, che scelgono ogni giorno la qualità certificata dei nostri prodotti. Farine specifiche per ogni utilizzo, per le famiglie, per gli artigiani, per l'industria alimentare, le farine convenzionali, la linea biologica, i grani antichi, come le farine bio di grano Corasan a marchio Camut, di farro, di grano duro Senatore Cappelli, sono le nostre eccellenze. Ecco, è questo il contributo che offriamo ogni giorno alla cultura di un'alimentazione sana e naturale, con le nostre farine, ricche di fibra e di germe di grano, di cui conserviamo intatti tutti i principi nutritivi, con l'amore per il nostro lavoro. Molino Rachello, dal 1901, la farina secondo natura.